La ex stazione ferroviaria FAP, Ferrovia Alto Pistoiese di Pracchia, tornerà a nuova vita e diventerà il fulcro della promozione turistica della montagna pistoiese e non solo. Lo prevede un accordo stipulato tra il Comune di Pistoia e l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese. Dalla stazione FAP di Pracchia fino al 30 settembre 1965, data in cui il servizio fu soppresso e la linea smantellata partivano i treni verso San Marcello. Una trattativa con RFI è l'uscita di un bando che ha consentito un'unione di intenti fra l'amministrazione comunale di Pistoia e l'Unione dei Comuni della montagna pistoiese per dare vita a un nuovo importante progetto di valorizzazione della montagna. Quindi un collegamento fra non solo la ferrovia e la montagna ma un collegamento vero con tutti i portatori di interesse, le strutture, quindi un futuro punto di storia, un futuro green point, un futuro punto di vendita servizi, informazioni e tutto quello che è necessario per le informazioni sulla montagna. Questa luce che abbiamo accesso su quella struttura ha un senso molto più lungo e molto più profondo che è quello di immaginare quella che a me piace definire una montagna metropolitana, cioè alla connessione fra l'area metropolitana fiorentina e l'area metropolitana bolognese con nel cuore la montagna pistoiese connessa attraverso la ferrovia porrettana che attraverso naturalmente la stazione FAP auspicabilmente recuperata in un lasso temporale più contenuto possibile si apre alle opportunità anche in termini di valorizzazione del territorio dell'intera montagna fistoiese.